hola ciao a tutti allora ragazzini e eccoci qui mi scuso se il video è uscito dopo una settimanetta dall'ultimo ma vabbè c'è stata la Pasqua Pasquetta quindi i tempi per poter registrare erano diciamo sono stati più ristretti vai mettiamolo si erano più limitati comunque eccoci qui allora non so se l'avete notato vabbè ve lo dio e non è niente eccezionale ho preso Bolasì un esterno sinistro che mi è stato consigliato l'ho preso in versione in versione nera cioè così e niente vediamo un po' com'è vediamo un po' se ci può aiutare va mettiamola Bolasì comunque vi ricordo che la situazione mentre qui carica sperando a trovare di trovare subito un avversario ricordo che la situazione attuale è questa di uno dieci punti cinque partite rimaste vediamo un po' cosa può accadere cosa succederà appunto come sempre non trova nessuno alla prima un po' o eccolo qui tu un avversario sì vai e adesso l'ho fatta perché l'ho tagliato da due ore che sta cercando ad avversare che almeno per la missione sia decente poi nel chiaramento valutazione 86 scuole mostruose ma è questa è andata a parte che il mai però ci ho fatto il callo via c'ho preso l'abitudine poi ecco l'ho notte di giù le mani dei balli dai noia di e merda di una partita finora piuttosto noiosa mi che non ci sono state tantissime poi punti diciamo azioni da tutte le scuole a parte di tutte le scuole portano a livello azione tra la cazzo è affatto non penso di ti riducò forse vi è un po' all'alto e se perdo in teoria dovrebbero anche finire le speranze di poter vincere qualcosa eh? vabbè dai che pole 3 a 0 oi mena di oi oi buondolano dai di chi no è vero ormai è finita c'è il loro risultato ma ti ci metti anche te finisce così 3 a 0 meritato ok è giocato decisamente ma anzi è la storia grande ma è l'unico di me giro gli anni perchè è stata una partita che fino a otto al 75esimo, 80esimo è stata stranaiosa 0 azioni da tutte le due parti e niente con questa sconfitta vi in teoria dovrebbero anche matematicamente finire le speranze di poter vincere qualcosa perchè se non sbaglio il risultato minimo richiesto era un pareggio e quattro vittorie e niente quindi si infatti si si infatti l'unica cosa che mi è rimasta da conquistare speriamo di conquistare la salvezza quindi andiamo a fare la seconda partita seconda partita vediamo un po' speriamo di cambiare no dai che palla anche me sta allutato in 86 ancora bundesliga ma rimane di poi e di comunque speriamo di cambiare subito l'andazzo eh che si è iniziato veramente male prima e tine barbu dai che c***o dai che c***o è la p***o dai che c***o dai che c***o ho sbagliato col subito dai ma le mani dai che prevede c'è la p***o per me se vabbè oh che p***o la spengo dai mi sono già rotto i miei Ma guardami, tutti i fenomeni, tutti i fenomeni diventano. Oh, fai, vai, boh. Dai, non ci voglio redi, non ci voglio redi. Oh, quando ti pari, eh? Non ci voglio redi, no, no, bimbi, non ci voglio redi. Ma ne è male, che palle, no, mi passa la voglia. Veloce, mi passa la voglia. Guarda via, guarda via, guarda via. Ma ne è una troia, Dio. Buona, ah, Robin. E lei è presa. Questo lì ha preso da traversa. Oh, maria, Dio. Il fare accosì, tira. Oh, Tevitz. No, almeno si è sfatato il tabù che ne entra mancazzo, ne è almeno verlo. Che palle, Dio. Anche ormai si è perso, 3 a 1. Ne è mai fare il riperato. Via, finisce o sì. Perse anche questa. Almeno si è fatto un go. Col presi rimangono uguali a quei di prima, 3. Chiaramente, ormai. Non apre assi. Almeno si è fatto un go. Si è sfatato, mi ha detto prima, il tabù. E nulla, ne è. Iniziata male, eh. Cioè, iniziato male questo video. Iniziata male questa serie di, 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 di. Di purtroppo, di sconfitte. Che palle, ne è. Ma, ma, ma. Va bene, ok, no. Giova meglio. Però mi possono prendere gol così, eh. Dai, via. Ma ce la farò asservarmi. Perché sai, via, le osie. Le condizioni diventano piuttosto drastiche. Terza partita. Sono proprio i rossi di sapere cosa succederà. L'utazione 80 watt. Intesa 70, anche divinmente. Chiaramente, certamente, volano. Tanto più rimane indietro, diciamo così. Va, vediamo. E vai, no, dai, vai, boh. Da questo, vi, non ci voglio dire. Meno male, bravo andando, uccidio. Vabbè, ancora finita. Sì, era finita, via. Vai. Vai, te, vi. Ma, che cazzo. Tira, Vidal. Non entra, eh, ragazzi. Deve start. Io non ho parole. Vai, bordalo. 1-0 lui. Tonfa. È nova. Chi è? Due tu snapas. Ale. Lo farò, i barbo. Lo farò, i barbo. Eh, ma sei scema. Quando mai? Oh, finalmente. 1-1. Tevez. Ha fatto un linceframorosso di Maria, per davvero, che se la fine faceva il gol, mangiavole. 43, 1-1. Tevez. E equilibra tutto. Finalmente. Eh, è il rigore. Oh, meno male, via. Vale. Vai, candela, va. Eccolo. 2-1. Però rimaniamo per i per terra, perché tanto conoscendo il culo e ciò, e in lo stesso gioco, che fa cacare, e lo staccarmo. 2-1 comunque. Tonino Candremo. Eccolo! 2-2. E andiamo di... Il modello di suonato. Ma è un pallido. Ok, Royce. Bene. Tonfa. No, 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 dai. Dai, che balle. 3-2. 3-3. Cioè, in 3 minuti è ripartito tutto. Ma come rigori. Poi, guarda via, non va nemmeno. Io so che dovevo fa... Ehm. Ma non va un cazzo, mi sa spaccato anche il gioco, se è successo. Vieni, via. Rigori. Non ti freddo. Rivalente è Mastrini. Non ti freddo, sento le strine. Vai, starvi. 2-2. L'orbalo. Finisce anche questa, o si. Terza sconfitta consecutiva. 4-2 per lui. Boh. Io so mi salvo, ve lo dico. Io ci gioco più. Ne. Che cazzo. Se mi vede così. Così tante volte. Boh. Davvero, ragazzi. Mi passa la voglia. Perché puttana troia. Ma ne è mai possibile. Boh, io farò anche calma. Dei, macciana merda. Che palle. Fa vedere qui. Come sempre, quando perdo, va sempre tutto a modino. Non è un'altra mava cosa. Mai. Vieni. Boh. Vieni. La quarta partita. Volevo vedere cosa succede. Vieni, ci si dovesse perdi. Sono automaticamente retrocesso in D2. E la voglia di riprovarci veramente non c'è. Perché cos'è? Il trentasettesimo. Mi pare. Episodio e faccio. E non ho ancora finito la serie, ragazzi. È da settembre, eh. Che va avanti. Quest'osservi di settembre, ottobre, via. Boh. No, ragazzi. Una zero. Lo faremo in due minuti. La cascetta. Vai, la cascetta. Vai. 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 Porca troia. Una uno, D. Oh. Ale. E tira. Ti tiri su. Niente. Via. Nulla. Tira, Tichino. Tira. Eccolo. Due a uno, D. E andiamo. Un po' è di. Ale. Degore. Ma come si fa da Degore? Prezza. Benedie. Mamma mia mamma mia tira la casetta ma che cazzo tira cocco maremma e tira no attraverso tira la bar guarda per l'avere l'altro nel gruppo ma baffanculo vai ma baffanculo di merda lo prende il gol all'ultimo ne ha fatto un cazzo tutta la partita mi finisce così almeno non ho perso ma baffanculo ma dimmi te se devo prendere il gol così all'ultimo spalla spalla per star rigi di merda star il giagheru e benzi e mammi purgano sempre tutte le porte quando gioano vedo vedete insomma fa un po' vedere qui tamodino non me lo c'è l'ultima o va vinco o retrocedo dai alla roba ultima partita voglio vedere cosa succede un punto e quattro partite ragazzi ma nemmeno l'ultima di serie a fa così e tira che cazzo è successo e tira oh Diego Costa uno a uno ale no 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 e tira e rigore rigore che culo non sono nemmeno se c'era eccolo Schurle due a uno vale maia terza ciaio ma puttana troppo maia che palle due a due dai che cazzo è due a due che fa così che palle tre a due sempre meno dai guardalo un altro uguale quattro a due boba vai vai in alto stai a vedere eh vai tomf 5 a due fallo 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 in alto bravo confo finisce così bene quattro a due prima di parlare guardavo se tipo era successo qualcosa magari non so andavano tirter già sono retrocesso allora ragazzi prima di saluta io voglio fare un discorsino allora mettiamo in chiaro qualche cosa anzi mettiamo in chiaro sì qualcosa perché c'è da parlare allora il fatto che io non sia brava gioa o metti caso strabrava gioa questo è andato di fatto cioè vero l'ammetto ammetto anche il fatto e l'osa che non c'ho nemmeno la squadrona confronto a tutte quelle che trovo contro però non è una giustificazione perché poi secondo me è uno anche se c'è una squadra normale se sa gioa se la capa uguale se la capicchia via allora io voglio essere un Aston voi a me mi sta avvenendo un po' annoia gioa e soprattutto perde così prendendo le strine non vincendo un cazzo anche perché bimbi ho fatto il video cioè su cinque partite ho fatto un punto mirabolato forse sennò erano zero punti cinque partite insomma cosa voglio dire voglio dire che mi voglio prendere lo so che è stupido perché comunque è sempre un gioco però mi c'incazzo io voglio prendere un un po' di tempo per pensare per pensare su cosa fa di questa serie b perché io ammetto e voglio essere sincero non sono assolutamente un tipo che tra virgolette si arrende eh anche sulle osse più stupide come questo sei perché comunque è un gioco ripeto però davvero siccome mi occupa tempo ma un bel po' di tempo sia per registrare i video per poi montarli insomma per caricarli allo stesso tempo bla 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 voglio vedere un po' cosa fa perché mi è passata la voglia sono sincero io come ho già detto prendo tempo credo che magari riproverò ad andare almeno in D1 però non so se poi la serie finirà con l'arrivo in D1 o proverò a vincerla non lo so resta rifatto che semmai riproverò anche a andare a punto in D1 non farò il video sulla D2 cioè il video di ogni singola partita ma proverò andare direttamente a insomma una zona buona e poi come ho sempre fatto cioè come ho sempre fatto come ho fatto un po' di volte magari vi lascio vedere le ultime due partite che forse mi permettano appunto di arrivare in zona promozione e poi andare di D1 semmai ci sarà questa occasione di V spero che abbiate capito ve lo voglio dire e quindi niente ci sta che il prossimo video uscirà fra un bel po' di tempo e niente vi saluto e poi ci vedremo alla prossima al prossimo video appunto via detto questo da un video nemmeno di metti mi piace ve lo arriva lì e niente allora ci vediamo ciao ciao